no sei già in diretta dio porco dio ora copriti tesoro copriti che mi durano tutto ora stiamo calmi stiamo calmi stiamo calmi allora attenzione ecco la mente del libraismo che ci aiuterà attenzione agli specchi anche perché credo gli specchi allora io allora se entro le 21 e 20 non abbiamo ancora incominciato esco quindi abbiamo ai 5 21 e 19 ormai ci avviamo ai 20 non fare così ti posso salutare sì ma sono arrivati mongolo sono arrivati e ha capito adesso arrivano gli altri e non è che posso invitare anche gli altri io eh minchia eventi preciso eh ha cambiato profilo e dodger ai 20 precisa sono arrivati mi spiace per te ma dai ma dai qualcuno inviti a lucard perché non c'era questo amico allora senti il doger senti però rega davvero cioè vado a sitalia italiana sento bella la parte di felix quando va mi conosco mi invitate entro non c'è un punto amico non c'è un punto amico non c'è un punto amico non c'è uno punto amico santi qua senti aspetta eh no prima cazzo poi dopo fa cagare la canzone sono to bella l'inizio senti qua eh roger senti che non si capisce un cazzo senti senti che non si capisce un cazzo Vabbè vai a cagare, io butterei fuori dal clan francesco perchè non è mai... Basta partiamo, appena arriva Francesco Dodger metti Paypal Ma ecco allora le dico ma porco dio cane ok ma lei si rende conto di che merda è l'azienda per cui lavora Lei si rende conto di che merda è Paypal porco dio Cioè voglio dire io se mi trovo all'estero mi sto chiamando un cazzino di volte Io vi sputtano ovunque merde, testi di cazzo, bastardi, lei che ci lavora dentro Gio cane di oposto non capirò mai più, date a fare il culo, bastardi Paypal è una merda, Paypal è una merda assoluta Che impone misure tecnocratiche di merda dove non serve un cazzo Testi di cazzo di merda io ho altro da fare, sono in America Devo scopare, devo fare le mie cose Cioè che cazzo me ne frega, date a fare il culo Andate a fare il culo non mi capirò mai più e mi sputtano per sempre Amici Paypal è una merda Non iscrivetevi a questo, andate su Venmo ad altre parti Paypal è una merda veramente, del test di cazzo Vado a fare il culo signorina del cazzo Ascolta il nostro quinto si sta collegando Quindi rinvita il tuo quinto appena entra il nostro quinto Va bene? Scusa il disagio Vai che c'è uno che deve staccare presto Quindi iniziamo subito Cazzo dai ci sto E' azzurri, sono, non ritero, ah, formentero E' solo un'altra storia Dove sono i miei vestiti? Dove sono i miei vestiti? Ma che cazzo escono? Bene, ciao raga, basta, ciao Cosa comincia così, eh? No, è stato insomma Perché vado, sei arrivato adesso, che cazzo fai tu adesso qui? Si, infatti Vabbè, basta raga, sono usciti da vaffanculo, devi andare io, basta Aspetta un attimo Ma cosa aspetta, sono già i 23, basta Eh, adesso riavviamo la partita, dai, sto mongoloide qua No, no, ciao, ciao Dai, aspetta un attimo Imparano loro, no, non è il primo del cazzo Ciao Comunque devo agire proprio un mongolo Ma come me non vengono più a giocare Provendo Movimento, stanno in Ransky Coglioni Figgi di puttana wow è completamente diverso non esiste grande manzo oro 3 oro 3 oro 2 oro 2 oro 1 oddio bscx ferro oggi ho fatto il massificato cazzo e allora le poi ha distrutto ho fatto ho fatto 13 kg la partita aprile alla campa di merda la parola in seguito tanto se vede volete preoccupare io non ho bisogno di niente prendete io bravo così andiamo ma adesso non è vero che con montagna e magia no vogliamo per quanto è mai francesco si ricarica un'esplorare proprio il porto di amore dell'argomento non è vero carichissimo francesco è andato in un accordo a svecci trovi teodrono io per favore un giocatore su 10 la one x sicuramente cosa ha detto lui un giocatore su 10 la one x si è carichato per primo presente 10 milioni la sentenza c'entra c'è non c'entra il carico nel nuovo mix che c'è il potente si carica prima carica prima perché carica prima con le connessioni io ho la one x e c'è una connessione di merda figurato c'è anche lui guarda vasto non mi ha mai creato la di uomo non mi sembra nessuno non so come stavo in line allora vedi se sei capire con il telefono 60 sta col telefono 60 no 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 il fatto è tu vedrete voi vedrete che lui pingerà tipo mettiamo 60 e tanto la vera comunque quindi lo butto fuori per la casa della progettina 61 63 60 visto perché staccato il telefono e non è solo la solita giù giusto che sta col telefono il gioco è contento vedi 64 pure capito mi tiene contento per l'uomo della teglia e l'uomo del caldo non ce la fanno cazzo da destra campionato però si a parte che non sappiamo la mano e poi c'è che non posso calcare mortale io vi avviso da ciò che è entrato aspetta che se ne vedo un tema cap can e come si sapesse quanto via sport del sito lo dico tutto il tempo ma eravamo a roma ma intuizione ma il fatto che in cittadino era l'iterio con la terra le canzoni sono stato sicuro cosa no raga andiamo bene giù si ma loro hanno scelto sta mappa no ah raga loro hanno scelto sta mappa o voi noi bravo vieni a mettere un cazzo qui arrivo arrivo dottero posto il risico c'è una destra mia testa oltre a stagione scale per il nostro spazio non è una macchetta che felice un po' di cazzo si salita a luce porca troia c'è per l'ora un sacro la controllo che notte c'è tornare giusto troppo ma il culo di queste persone mi fa schifo la conde iniziare a tornare giù tra conto c'è troppo lontano piano 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 ea perché mi ha visto un tipo più che altro posto che non se l'aspettava che scendasse così velocemente testo per riscaldare non due alle scale postenti con quello andò un po' di mi hanno un esercizio in percorso quando era in grado la casa non mi ha deciso che pensi sarebbe un posto di romeo gemmer più quindici e capito dove stavo io a lupo a valutare il valutare con la tua scala di tenere in grado sul pino sul bimbo luce Lo tengo io di qua, vai. Raga, vi entrano da dietro. Ma va a farlo. All'altro lato, Aluc, sinistra. Che palle, oh. Aluccio occhio che ti sparano pure dalla porta mia di qua, eh. Mettiti dalla parte di parale. Non mi fanno sentirmi che vieni, non puoi spiegare. Frank, sono nella stanza. Ti vedo alla tua sinistra. Dietro alla tua sinistra. Tu ti fai questo, dalla mia porta e ti faccio il tuo. Esatto, bravissimo, bravo. Vai, vai. È proprio palle. Non andarci di pistola, ricarica o ricarica. Bella. Bravo. No, in pro... Profire. Bravo, Franceschke Bouch. Grazie, Edward. Oh, questo che non vuole morire, stasera. Questi tre yardano, porca puttana. 6-0. Vai, no, no, bene. Facciamo un sponchino attenti, so che... Eh, sì, qua sopra. Quocco, coco. Un caldo, io tra poco mi dico, se non è un po' di grande, 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 non è un po' di grande. Non è un po' di grande, non è un po' di grande. Sì, sì. Sì. Ops. Sop. Desidero, mi chavo, mi ha fatto il drone. Si è girato all'ultimo. Staron. Rompergli il... Mira. Manz! Dragon ha sparato a me e a te, insieme. Non se lo aspettavo questo, direi, è che io dovevo controllare l'angolo, porca puttana. Però questo non se lo aspettava, che cazzo. Ha ha ha. Che mi ha fatto un manzissimo, ha fatto. Deve essere stra... Rotto il vetro! Fanculo. Mi ha gemmerato il drone, meglio l'ho rotto. Tra con i vedi che stanno qua, eh? Dai, Wolf. E' solo un'altra storia, Italia. Rank, guarda che l'estate che cerchi non è allontana. Dragon, coprimi. Dragon, coprimi. Vai, vai, vai. Coprimi. Wolf riesce a briciare? No, sta... Fa tutte le fatti. Solo qua sono riuscito ad aprire una. Potete rompere qua? Non c'è, 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 c'è. Aspetta un secondo, sto vedendo, aspetta, aspetta, aspetta. Basta che mi copri. Ti copro tutti due in obiettivo, li sento. Sei tipo uno qua all'angolo. Dai, me c'è il mio tosperto. Ma vaffanculo. No, chi cazzo ha flashato, raga? Mi sta inculando con... Ah, è qua. Oh, e dopo mette che sia maestro che alibi. No. Maestro no, sei scemo. Gli italiani hanno rovinato. Sì, vabbè, solo per alibi. Rainbow è migliorato. È assento pure, perché ho un danno alibi. Rompico io. Dove lo vuoi lo scudo? Lo voglio. Di dietro. Aggiungi un ospite. Quello se fanno le piastre invisibili a terra, vedi, qua. Se ne accorge più nessuno, chiede. Dove lo vuoi, oh. Alla porta, nel corridoio. Questa qua, dietro. No, ma che cazzo è, là. Qua. Da. Faccio io. Aspetta, raga, c'è il pompo. Aspetta, raga, c'è il pompo. Raga, c'è il pompo. Faccio io. Non sprecare, c'è il proiettivo del pompo. Ok, così. Da, con il... Con il cazzo di Twitch. C'è il Twitch, ecco il Twitch. E' morto. Vabbè, da, oh, non mi muore. Ma adesso, perca, la seconda volta che mi ammazza. La seconda volta, in testa al termite, si è fatto niente. Ssh, zitti, zitti. Non ci credo, c'è Ave Maria, c'è, quello di far Cry 5. Ma che credo che mi hanno adionato. Ma che ti serve una mano? No, 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 no. Qua dietro. Zitti, ragazzi, ragazzi, ragazzi. Oh, raga. Sto pepe mi figliato. Da scale, da scale. Da scale, raga. Io me li sento tutti intorno. Madonna. Che schifo. Vai piano, vai piano, vai piano qua. Vai, vai, d'acqua destra. Vai. Un attimo, eh, lo sanno, sono qui, eh. Ci vediamo. No, va, nello. Destra. Emo, no. Entra, ragazzi, eh, dragone, dragone, dragone. Puede entrare, ragazzi. Ma, ma, cazzo, ma non c'era nessuno, seriamente. Oh, ma c'è solo uno che cazzo. C'è solo uno che cazzo. Io la riprovo. Cazzo. Lo dragone che si lancia all'improvviso. Vaffanculo, ragazzi, c'è un uomo, arrivato il tipo. L'embrema di Rainbow Six che viene a testa in giù. Fa, sta un altro drag. Mi serve, mi serve, mi serve, oh, mi serve, mi serve, oh, mi serve, gli SDS da qui. What? Non ha più il drone di più, dice. Oh, ferma, 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 ferma. Ring. Diego, no, hai visto l'headshot che è il primo? No, dietro, ti ho porto, mi, tu, dino. No, cazzo. Non è andato. Sì, sì, è lo stesso mio. Ce n'è uno, ce n'è uno. Sono qui, la luce. Cazzo, mi ha fatto il jammer. Cazzo, sono qui, non l'angolo. Lo sapevo, cazzo. Perché non ho guardato. Temi è vicinissimo. Allo c'entra, no, eh? Apri. Che culo, però, questo, madonna. Ce provo. Oh, no, non rischiamo, 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 è una superioreità. Deve venire, ragazzi, deve venire, lui, fregatelo. Il tempo scade, vuole o no? Sì, vai, spara. Spara, spara, spara. Lui è asperto a rientrare quando mi sta perdendo. Si è fatto per uccidere. Sì, intanto. Come cazzo ha fatto a non morire con quel C4? Porca troia. Ah, era lontano. Direi un storandolo qui, ragazzi, decisivo. Cioè, sto qua ha sprecato la bombetta per romper milione. Sì, è contento. Sì, è contento. Dragon, drone. Dove? 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 Dove volete entrare, parlate. Sì, secondo me, ragazzi, io la mappa non la secondi. Allora, facciamoci una corsa, qui stiamo a entrare che è libero. Andiamo subito a sinistra. Dove? Cucina, ragazzi, un momento. Cucina, sala da pranzo, c'è vigile. Perché ci sono interferenze. Andiamo subito a sinistra, in una stanza del pianoforte. Sei dentro, Franca? Sì, vai. Non so per dentro che intendi. Sì, parruccini qui. Sado, cazzo, dove ho metto perché lei non lo sapevo. Non ci siamo, eh. Dai. Io sono con Frank. Vigiono sopra. Occhio. Vagacchamarda. Vigil qua. No, no, no. Ma un altro, mannaggia la miseria. Vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Entra dentro, entra dentro. Ma vaffanculo. Prenda le cam. Vai. Presa. Ma vedi un po' che cazzo gli ne ha, Bicol Capcan. E' drotti coglioni, va. Vai. Vigion sopra, vigion qui. Vabbè, oh, raga, l'ho sparato dietro in mira. Ma ho ucciso. Dov'è? Cioè, ho sparato dove stava la testa. Vabbè, raga, questi qua non gli entrano i colpi. Vigion qui su scale. Ma dove era il cam. C'è un po' di là e vengo l'Igion qua. Wolf, dov'era? Merda. 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 di questo attaccato 20 secondi fai parti un lion ho pensato che salva i culo il mio credito il mio scrivono e scrivono se mettono morto l'uomo hai messo con il mio amore aiuto la vita un cuore io con ci porto la vista che il milano ci vuole di entrare nicole che troia se si è vero se lo vediamo ho sparato anche i puffi se servivano c'è c'è anche pochissima vita ce l'ho sparato in testa negli indagini sono attorno da macchie stanzi percorso il soluzione prova a mettere la maestra forza se riesci, devi essere agile come non so cosa lo metti, minchia a round italiano questo jager poi è italianissimo, tanto io ci muoio comunque almeno vi pianto le telecamere primo vediamo faccio l'esterno alibi togli questo alibi togli questo ologramma che lo rompo aspetta il drone nemico è il drone nemico secondo voi da coglioni star dove sto io? qua ha pezzato due trappole eh vabbè da questo qua stava lì a aspettarmi sotto la finestra sto nabbo di merda e come cazzo te lo spiego ma sta mappa è entrato Sledge non è morto pazzesco pazzesco eh? certo ho provato a far la purcata però ho la mille video ma no ma dai ma da dove? sotto da sotto da sotto da sotto cazzo ma da dove? è ingresso proprio principale dovete entrare l'obiettivo ragazzi l'obiettivo ragazzi l'obiettivo entrate dragona sparava così eh ma non sapevo dov'era devi mirare non sapevo dov'era eh però mira sempre mira sempre da qualche parte hai ragione tutti colpi così tutti mi sembra che cosa c'era ad usarlo adesso guarda questo non ci muore quanta vita manco mi ha fatto vedere quanta vita oh è morto cioè vedi un colpo e gli hai tirato bravo ma dai ma seriamente eh? cazzo 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 no dai madonna l'ologramma vaffanculo in mezzo alla scuola so mmm dobbè perciò non ci credo io no no non ci muoiono ma porco non ci muoiono vabbè ragazzi dobbiamo fare altra mappa è una mappa che non conosciamo cazzo mapparano con la senso nessuno la conosce arriva se non ho capito ma nessuno conosce stama che cazzo la vuole giocare è una taglia cazzo poi dopo fa che gara canzone sento bene l'inizio è una taglia ma che mi spazzola non mi spazzola ma che mi spazzola ma che mi spazzola ma che mi spazzola ma che mi spazzola giù ragazzi vabbè il frattempo è morto sverse vuole GO riemi a metter il caso qua lui mi fa entrare dove 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 vai qua corri corri che ce n'è uno corre riuscite a buttarmi a terraco qualcosa se non avete c 4 niente vieni 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 qua ulv qua un'altra domanda la parola no 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 con questo sorrento sbagliato tasto aiutato un altro carlo e ragazzo 3 contro 4 so e adesso si che puliscono cazzo il senso anche la proposta perso è perso attenzione pare fatto il trono del volo no è perso fingiti morto visto che usciano un caricatore ok in l'epoca per me si tratta di un uomo e al marzo 4 minchia c'è lo slagio un caricatore di vigile per me che guardi la rosa contente si becca a contento quando si è andata con la mamma e lascio pure il gruppo che è dell'invito no no ma l'altra mappa aspetta per questo è una mappa italiana macchina farò è sempre rossiare che esistono caroia 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 3 4 4 4 Sai perché? Sai cosa mi ha fregato? Il C4, non so perché, glielo lanciavano addosso, rimbalzava sul muro baricato e si attaccava lì. L'ho preso più di una volta, non so perché a un certo punto mi è venuto di farlo esplodere, cioè... Eh, raga, forse, non lo so, stavo... Eh, sono troppe seghe, Frank. Guarda, Frank, se non volevi giocare l'ultimo lanto, ce lo potete dire? No, più che altro lo fa incazzare, fa pesantemente incazzare, perché è un po' storico apocalittico, Ogni volta che siamo 4-3 e ne basta una per vincere, facciamo stronzate su stronzate, cioè... Io non so più che usare come portone di difesa, cioè, non ho più idee su questo aspetto. Ma non te ne devi neanche più preoccupare, tanto se non usi la determinata arma con i determinati accessori in un determinato modo, cioè, è tutto prestabilito. Questo gioco, praticamente, è come i giochi di carte che fai te. O giochi così o niente. E tu lo sai che ho ragione. Lo so, lo so. Lo sai perfettamente. Lo so, lo so. Che... Glielo gravi. Madonna, ti fanno. Thermate, ti fanno. C4. Ma è scemo questo. Madonna. Lo vedi? Se la romano, gliela congemmate. Esatto. Questa c'è pure il culo che lo colpisce, ma non in testa. In cui si vede solo la testa, però. Hai capito? In volte anche il tix è soltanto. Sa, la tazzina con scritto R, wow. Mi ha salvato il culo. Ti rendi conto gli spot che stanno usando questi due Kevin? Stanno usando gli angoli dei gradini, porca proghi. Le ringhiere. Le ringhiere. Le ringhiere sono le nostre armi. Le famose ringhiere. Ma è vero che ho scoperto che non siamo agli unici? La vera è sfiga? Cioè, una... No, no, le ringhiere. Nello specifico. Tantissime persone odiano le ringhiere. Allora, vieni sti due parole. Madonna. Sì, mica stava per sparare all'ostaggio, lo so. Ci ha pensato. Lo schifoso si è messo dietro all'ostaggio. Madonna, è vero? Classico. Madonna, stava per seccare un'altra volta all'ostaggio. Spara, ragazzo, spara. Manz. Grande, Franca. Minchia, stiamo parlando dei vecchi tempi. Verrà ricordato nei secoli e nei secoli, perché hai lanciato il C4, la Nitro, se l'ha andato su un alleato. Minchia, la. No, no, te racconti tranquillo, fatti i cazzi tuoi in un altro po'. Madonna, stavo per fare una doppia. Ha fatto un periodo. Vabbè, sono puri, se puoi guardarmi dietro. Rado di entrato. Vabbè, me ho finito. Mi ha fatto sacrificare per niente. Ma, ho fatto l'arubità, e la fierezza. Mamma, è giusto. Blastato Mother Warfare 3 con i DLC è il gioco più completo della storia Non lo so, eh Cioè, non l'ho provati Ma sembra una Una dichiarazione un po' Esagerata Ha tanta di quella roba che non puoi capire È una dichiarazione d'amore nei confronti degli FBS Che cazzo è sta roba? Si fa partire così? Ecco perché sta in errore C'è un cazzo di copo di merda Allora, sono al telefono Non si palesa Porco Dio che non si veda Ma sono al telefono con quella lista 1989 È una figa incredibile di Ocane Bellissima però Vuole È senza soldi Come mai? Come mai?